Un incontro importante aperto a tecnici e semplici cittadini per conoscere le regole che governano questa base informativa chiamata centrale rischi, ma anche le sue opportunità per garantire e migliorare chiarezza e trasparenza nel rapporto banca-impresa. Era una cosa che avevamo in testa già da diverso tempo, è il recuperare il rapporto tra banca-impresa, dal di là di quello che è il normale rapporto quotidiano in un'agenzia, andando a informare il cittadino, l'imprenditore e l'operatore che comunque ha a che fare in ogni caso con le tematiche del credito, su quelli che sono gli strumenti che la banca adopera ma che l'impresa deve assolutamente conoscere per rendere più proficuo il rapporto. Si parla tanto di difficoltà nel rapporto tra banca-impresa, ecco questa è sicuramente un'operazione che va a favore di una maggiore chiarezza e trasparenza nel rapporto tra le due parti. La centrale rischi rivela tutti i segreti di un'impresa e di una persona e lo vedono in tanti, adesso ci sono anche le centrali rischi private per cui se uno non paga una rata di un mutuo lo sa tutto il mondo e questi segreti nel campo economico ahimè non esistono e quindi è giusto che le imprese e i privati prendano consapevolezza di queste cose e che i professionisti sappiano utilizzare questo strumento. È uno strumento di trasparenza, è uno strumento di chiarezza. È stranissimo che non se ne sia mai parlato fino ad adesso, adesso è arrivato il tempo. Al seminario hanno preso parte anche molti dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo. L'Ordine dei commercialisti di Arezzo ha aderito volentieri a inserire nel programma formativo 2012 questo evento organizzato da Banca Popolare di Cotona perché è un argomento estremamente tecnico e che è un argomento che è assolutamente importante per lo svolgimento della professione del dottore commercialista perché in alcuni campi tipo collegi sindacali o attestazioni di piani in situazioni di concordati o risanamenti vari, effettivamente a sapere come utilizzare lo strumento della centrale dei rischi è importantissimo e basilare.